ragazzi benvenuti e bentornati su shemmy 3 o finalmente possiamo cominciare ad esplorare tutta la nuova zona del gioco e le telefonate nella scorso episodio abbiamo fatto un botto di telefonate e l'episodio praticamente metà dell'episodio è stato dedicato a quello però ragazzi voi sapete quanto io sia legato a shemmy o quanto adori questa saga è una chicca del genere all'interno di shemmy 3 di poter interagire con i personaggi dei vecchi capitoli che non sono presenti in questo è qualcosa che non poteva essere evitata almeno qui riusciamo a pagare se vi ricordate nel secondo capitolo avevamo sempre dei debiti con il proprietario del dell'inno solo solo ii qua o ha io io a o ha io mazù a en san tati no te gaかri o saga so un ma 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 milano ma 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 Sì Se hai capito di aver capitole, vi ringrazio. Sì. Alla prossima. Scusi Grazie a tutti 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 Poi verremo naturalmente ad allenarci Dobbiamo ricordarci che non siamo qui in vacanza Ok? Siamo qui per cercare il padre di Shenua e gli scalpellini Cioè l'altro scalpellino che è con lui Lì penso ci sia un problema con le porte Ma questo è un arcade? Scusate ma io devo entrare... High touch land Madonna mia, ma lì c'è chai, ma lì c'è chai Un'altra copia di una copia di un'altra copia di un'altra copia di un'altra copia di Virtua Fighter Un'altra copia di Virtua Fighter però con Shobu-chan Un'altra copia di 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 un tasti finché non vinciamo no dai volevo provarlo tra l'altro è qui che c'è quella famosa ruota di premi in cui possiamo usare i nostri ticket dato già il fatto che ci abbia due piani in sto posto ah ok qui c'è il negozio di premi questa house è stupenda oh ci sono li voglio vedere questi ok torniamo di sotto volevo provare a giocare questo cosa cacchio nice golf si questo è proprio il gioco che fa per noi capirai già non riusciamo a colpire a fare centro in un bersaglio fermo come i secchi figurati non è in movimento quasi però abbiamo tre tentativi anche qui bello e vabbè eh va bene o male che se lo dice da solo rio ormai ha capito che in questi giochi non è proprio non ce la fa il poster di Virtua Fighter peccato che non ci abbiano messo effettivamente Virtua Fighter ci abbiano messo quello con Choabu-chan ve lo ricordate? si dai in onore dei vecchi tempi non è stiamo facendo schifo ci ha dato anche un ticket tra l'altro questa versione fa anche le finte non so se avete visto però è brutto che devo aspettare quando lo devo colpire due alla volta devo aspettare che escano tutti e due fuori perché altrimenti sbaglio che brutta sta cosa però vabbè allora il problema è che non so dovete forse lì ci sarà la ruota non lo so qui c'è un muletto lì c'è un magazzino che si possa lavorare al porto chi lo sa allora mentre andiamo al quel posto lì chiediamo anche alla gente in giro non era quello che volevo chiederti ma vabbè saliamo su questa nave game restaurant game floor arcade c'è un'altra che cosa Cosa? どうぞ go ennio nico ただ i ma higakari challenge missione no開o questa istante questa è una big chance questo è il modo che si fate di challenge missione di questo è davvero tra un challenge missione si fatemi di questo in qualsiasi dica di queste qualsiasi di più gli una Grazie a tutti Ok Allora, esporiamo un po' questo posto Oddio, sono comparsi Mi lasciate stare Ah, io ci avrei biglietti Ah, ah 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 Noi sei il mio, il mio mio mio. Il mio è sempre stato così. Non, non mi sento, non mi sento qualcosa. Mi sento credo, e la mia una figura di più, che farò prima di che lo prendo. Ma, no, mi senti? No, non mi sento, non mi sento. No, ma ti sento. I so molto bene. Grazie a tutti Madonna mia ragazzi Ah gesù santo Ma sarà vero tra l'altro Che c'è una sorella Oppure il classico otaku Ma quindi come faccio a giocare la ruota? No sono qui per capire come devo giocare Sta ruota Ah solo con quelli Scusa No sbagliato Io nell'inventario Ho sti ticket Vietto grande ruota rossa Ruota verde e ruota blu Quindi questa non è una ruota verde No Quindi ci dovrebbero essere altri tipi di ruote Madonna mia lasciatemi in pace Qui sono altri giochi Andiamo di sopra Vediamo cosa c'è Il ristorante mi sa Qui non si può passare Lui mi sembra Oh gesù no Da dietro Da disfalle mi sembrava Assomiglia molto al protagonista di Lost Judgment Che non ho giocato Ah c'è il piano di sotto Non l'avevo visto Lasciatemi stare Qua sotto cosa c'è Qua sotto cosa c'è Fido a distanza Prima o poi dovremmo venire a indagare qua Magari Comunque basta perderci in chiacchiere e cose inutili Andiamo a A cercare informazioni A cercare informazioni Sì Sì Grazie Grazie Mi ha visto che non ho visto Non ho visto un uraia E Voglio fare un uraia Ma Comunque Sì 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 Non mi sembra. Non mi sembra proprio. Forse dobbiamo andare più avanti. Questo Rose Garden. Io voglio visitare tutto qui. Magari dobbiamo andare più avanti. C'è un tempio. Light and bright. No. Scusa. No. Penso che mi potesse fare interagire. Che sei di qua. Do not run. Non si sa per quale motivo ma non si può correre. Phantom Mask. Donna. Drunk Tank. Ok. Quello è un negozio in banco di pegni. Eccolo. Onisano. Grazie a tutti. Sì. 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 Eh? Sui nanno so? Sì... Solo... Questa è la mia cosa. Mi piace. Grazie. Se ti preoccupi, mi chiedi sempre. Non è stato molto d'aiuto. Se chiedessimo riguardo alla foto, invece... No. Sì. No. Sì! Sì.. Sì... 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 Sì, come selezza! Hai visto questa persona? Sì, non è stato un ucciso di un ucciso? Quali cosa ha detto? Mi ricordatevi un ucciso di un ucciso di un ucciso di un ucciso, ma non ho un ucciso di questo. Si, hai visto? ci conviene chiedere a qualcun altro c'è questo Per ora non abbiamo una pista chiara. Dobbiamo per forza chiedere a chiunque. Belle queste statue. Scusate. Scusate. Abbiamo il nostro canale. Possiamo comprarle addirittura? Porta incenso, incenso... Incenso con una fragranza unica di erbe medicinali miste quando hai bisogno di relax. Un raro porta incenso e l'erba tang. Una suave fragranza fuoriesce da diverse ventole. Un ufficiale in pietra. Una statuetta di pietra di un ufficiale militare in piedi. Un materiale meno pregiato ma con bellissimi dettagli. Remita in pietra. Omosaggio in pietra. Tatagata in pietra. Un pubblico ufficiale. Una replica in pietra di un pubblico ufficiale. Mettila in camera da letto per assicurarti un buon risposo. Aratte in ceramica. Una statuetta in ceramica di aratte. Il colore è un po' smorto ma ha un fascino particolare. Ne voglio prendere una. Prendiamo il saggio in pietra. O l'eremita. Ho sentito a ripetere un uomo saggio in pietra. Un materiale meno pregiato ma... Va. Andiamogliela. Grazie. Quindi non è un uomo saggio in pietra. Perfetto. Perfetto. Grazie. Comeza. Comeza. Is there Boli da cipollas? Cuidota in pietra. Perfetto. Noi ovez mai? Chiari. 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 Ahà Vai al terminal dei traghetti I turisti affiggono molte foto al terminal dei traghetti Valla a vedere Subito Poi naturalmente ragazzi Continueremo ad esplorare Perché ci sono molti negozi E' una cosa che in questo Scemi 3 voglio fare Perché poi E' una cosa che ho rimpianto Il secondo capitolo di Scemi Perché ho esplorato veramente poco Più che altro perché ero preso dalla trama Ero molto preso Non che qui non lo sia Però Ci tengo comunque a A poter esplorare Ok Adesso mi fa correre Sta anche tramontando Bellissimo dato l'effetto Ricordo che vabbè Siamo in Arial Engine 4 Quindi Difficile non ottenere Dei belli effetti Di illuminazione Allora il terminal dei traghetti Qual è Esattamente Forse è di là Credo Sì Ferry Terminal Vediamo Information Board Ecco le foto Ecco le foto Ecco le foto Eh A ricordarmi Com'era la foto Cosa Cosa Un vestito Oddio Ma Ok Che siete pisci Hanno dei volti familiari Ok Eh sì, quello è Guanyo. Non proprio, Ryo. Ah, qui non sembra esserci niente di... Di che? Proprio qua. Lei è quella che vende le statue. Come? Ok. 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 Ó. Ok. 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 fan mi sa di sì perché ce ne stanno un botto perfetto allora ragazzi sono bellissimi queste chicche per i fan che hanno contribuito bellissimo bellissimo perché ricordo che questo è stato un progetto finanziato tramite kickstarter tramite campagna kickstarter allora negozio buddista ritorniamo alla passeggiata che è così che si chiama la strada e vediamo se troviamo qualcosa d'altro dovrei controllare un attimo la foto per evitare poi di confondermi allora ci sono delle strade di Buddha e una tenda rossa quindi è abbastanza evidente potremmo provare a chiedere a lui magari lui conosce qualche altro negozio di statue tra l'altro questo è un belissimo un d'oro è un belissimo è un belissimo Grazie a tutti Grazie a tutti Alla signora Dove abbiamo Comprato la statua Quella di Legno, di argila Non mi ricordo di che materiale era Lei mi sembra un po' più alla mano Dicevo mi sembra un po' più gentile E' stato bellissimo Vedere il cambiamento La città che La città, scusate Si può chiamare villaggio Che cambia Ma perché Non c'è la musica? Ok Non so perché Non ci sia la musica Non ci sia la musica Ok Ok A destra del chiosco di torte lunarie Non ci sia la musica In città Ho incontrato la stessa donna Che era sulla barca Sembra carina Vogliamo parlarle Ok Molto misteriosa Chiosco di torte lunari Penso c'è questo Oh madonna E' bellissimo questo posto Mamma mia Bellissimi Lì c'è un negozio di statue Ma sarà quello? Non mi sembra Quello della foto Quello della foto No infatti Non c'entra niente Dobbiamo andare di qua Forse è di qua Mi sa di si eh Se guardiamo la foto Eccolo Mi sembrava infatti Sì 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 Grazie per la visione 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 Pensa che parlare di Shenua con Ozomi Non sia proprio una grande idea Dai facciamo l'ultima telefonata Anzi no Vorrei vedere se possiamo andare nella stanza di Shenua Per parlargli Per parlargli Se riusare le scale Lei dovrebbe stare nella stanza Qua era la stanza Mi sono scordato Non posso interagire con questa Mi fa interagire con questa perché è la mia stanza Ma perché non posso interagire con quella di Shenua Vabbè Mi sono scordato Mi sono scordato Ma c'è qualcosa Ma c'è qualcosa Ma c'è qualcosa tra questi due Si sono adocchiati a vicenda E il fatto che lui si ricordasse così tanto bene di questa ragazza Shenua l'ha notato Quindi vuol dire che Ryo Hanno notato la ragazza E Cioè possiamo spiare Shenua Possiamo spiare anche gli altri Scusate Qui non c'è nessuno Non sono in stanza al momento Vabbè dai Invece di fare Ah si ho fame Vabbè Invece di stare a spiare le altre stanze Mettiamoci a dormire E mangiamo anche Io penso che per questo episodio possiamo concludere qui ragazzi Dormiamo Scusa Siamo andati avanti con la trama Quindi io direi che Possiamo concludere l'episodio qui Io vi ringrazio Per l'attenzione Per la visione, per la compagnia E per il supporto Come sempre Salviamo E ci vediamo al prossimo episodio Di Shenmue 3 ragazzi Ciao a tutti